E allora ciao a tutti ragazzi per tornare sul canale di Ulchie Femaf, io sono Femaf, qui con me c'è la mia sorellina che si chiama Samaf E oggi proviamo a risolvere quella cosa che non riuscivamo a risolvere l'altro giorno, no? C'è presente quella di Alan Wake che guarda che ora arriva il trattore bello proprio, cioè quello fortissimo, guarda, aspetta, è questo qua Ecco questo trattore è qua, ciao 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 Allora se devi parlare devi dire, oh 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 oh, devi dire qualcosa di utile, perché se no non mi serve, oh 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 Allora dobbiamo uccidere le genti Ehi, allora senti, senti, no allora non mi sta, abbiamo cominciato male, Sara Allora, Samaf volevo dire Nooo Eh, senti, ricarichiamo la nostra arma, proviamo a uccidere i nemici, quelli cattivi proprio Siamo dove stanno i nemici cattivi proprio, io non li vedo dove, tu vedi, oh 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 Tu vedi i nemici, eccolo Eccolo No, ho sbagliato l'arma Shhh, shhh, scompare male Fuori, 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 fuori Allora, eh, allora si è, ok Praticamente dovete sapere che il mio joystick è rotto Per cui, vedi, vedi, non si seleziona Cosa si è rotta? Allora, ti spiego, le freccette si sono rotte In modo tale che praticamente non riesco a selezionare l'arma che voglio E lo so, è un casino Però dai, mo ce la facciamo Questa è la volta buona che superiamo il livello Allora No, 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 stai calma Allora Mo ti dico una cosa Dico una cosa Senti Mi ha detto la Deborah Cioè la Demaf Che, eh, che Ettore è ingrassato un casino Sì, mi ha detto un casino lui E dice che è colpa nostra Che, eh, che non lo portiamo a passeggio Tipo E allora ho pensato Sto pomeriggio lo portiamo a passeggio, Ettore Va bene Va bene Allora, no, tu senti, senti Così poi, è come se facesse l'esercizio in palestra e te lo dice Cioè o meno Guarda, allora, sì, a proposito Mi racconto una storia Praticamente Io Non ci sono stato Eh, sta settimana Perché sono stato a Bologna E ho fatto una piccola vacanza E mi sono divertito Diciamo così E però praticamente Dentro questo posto Ci stava una palestra E ho detto Oh, ora faccio gli esercizi nella palestra Così divento forte proprio Però che è successo Ho fatto troppi esercizi E quindi mo mi fanno male Siete tette Tipo Cioè i pettorali Scusate Le tette dei maschi I tettorali Praticamente Mi fanno ma Mi fanno male proprio Cioè non riesco a muovere le braccia Senza che mi facciano male le tette E insomma Eh, a proposito io stamattina Ettore non l'ho visto proprio Ma dove sta Eh, lo vanno forse in veranda Oh sto sciampo Muori Sciamo Allora Sta in veranda Ettore Poi lo andiamo a salutare Lo mettiamo nel video Eh Ehm Ricariciamo l'arma No per niente No per niente Cioè Immagino di sapere come si fa Il problema è un altro E che Infatti mi sai che passare Non mi ricordo Quali problemi A provare a distruggere Sì Ah allora li vedi i miei video Mamma mia Ehm Voglio farlo investire dal trattore Sto scemo Wow 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 Questo da dove viene Da dove vieni Scemo Muori Muori Dai Ok ok allora Ehm Niente Stiamo tipo per morire Però dobbiamo riuscire a Wow 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 Non è andata Molto bene Diciamo così Però Avevi detto Dove essere la volta buona Questa è la volta buona Muo vedi Tu non hai capito ancora niente Guarda Ci sta la pubblicità Tipo Delle pile Energizer Ehm Che io non sponsorizzo Sul canale In caso mi dicono Tipo che sponsorizzo Solo per prendermi i soldi No Questo non è vero Io non ho Non ho sponsor Nel mio canale A proposito Se voi sponsorizzate E volete sponsorizzare Il mio canale Fate un po' come volete Cioè alla fine io Cioè capito Oh attenzione Tu No no tu prima Allora no no Allora no tu di voi allora sto trattore mi ha incastrato tipo al muro allora fai uscire l'oscurità con la luce a rompere le palle ma secondo te è facile uscire l'oscurità da un trattore c'è un trattore capito è grande proprio ma è grande proprio sto trattore sarà se io punto la luce sul trattore intanto gli altri mi ammazzano quindi io prima devo ammazzare gli altri quando sono morti tutti penso al trattore capito cioè e compare ma che ti devo dire è così che va la roba muori ok allora mo sta allargando parecchio tipo proprio tipo che sta guarda guarda che va a tratti è un casino siamo rimasti solo io il trattore no c'è anche questo scemo qua dove 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 non avevo visto la luogo uovo davvero niente tuttavia senti allora ok muoiusciamo allora pensiamo al trattore moon si e tu è allargato troppo il gioco non riesco a giocare No, Vagnoni sta andando a tratti proprio E allora Come? Le uccisi tutti, tizia Non lo so proprio, non vedi come sta andando, non si vede niente Non riesco a capire No, allora, senti E vabbè, dai Allora, non ti spiego qual è il problema Che io sto registrando E il computer fa schifo proprio, per cui Tipo, guardalo che va Tipo tutto a tratti e non si capisce niente E ovviamente I miei haters mi scriveranno Nei commenti e mi diranno No, no, praticamente è lui che è scarso Non è il computer che non funziona Non sono le precette E non gli lasciamo dire quello che vogliono Perché alla fine noi la verità la conosciamo La conosciamo bene La conosciamo molto bene Mo, pensiamo a schifare il trattore Ecco Il trattore Siamo proprio Mo, allora, mo viene verso di noi tipo Sì, 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 uccide tutti quanti Sì, sì, mi piace così, mi piace Poi Puntiamo le due Oh, 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 oh Tu, 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 sì, tu Vedilo che va a tratti e non si capisce Tu, tu No, beh, non vedo niente È un casino Allora, tu, 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 tu Allora Non ci siamo capi Allora, facciamo che il video Finisce qua Facciamo che il video finisce qua Perché mi sono rotto le palle È stato bello, ragazzi Cioè, purtroppo Facciamo così Il prossimo video Faccio questa cosa Finisco questo livello fuori dal video E poi nel prossimo video vado avanti Quindi ciao a tutti Ciao 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 ciao